Oggi andiamo veloci! Eh, come mai? Grande mal di testa! Ah, che peccato! Cos'è successo? Ha preso qualche cosa? Sì! Eh, cosa? Anti-infiammatorio giapponese! Qual è? Oki-nawa! Va bene, dai maestro! Maestro, ci lasci la pillola, dai! No! Cosa no? Oki-nawa e bustine effervescenti! Ah, scusi, va bene, allora... Ricorda, Daniel Sandro, come frutto di albero non cade lontano da albero, frutto di piccione non cade lontano da macchina lavata. Non è un frutto, ma rendeva l'idea, guardi!